Ieri, sabato 20 agosto, per l'Union Clodiense, Chio Gia Sottomarina si è tenuto l'allenamento congiunto con la Primavera del Venezia, terminato per 4-3, a vantaggio per l'Union Clodiense. La prossima amichevole si terrà mercoledì contro l'Arcella allo Stadio Ballarin. Domenica prossima Coppa Italia-Campo d'Arsego. Il campionato inizierà domenica 4 settembre con la trasferta contro il Charliss, squadra allenata da Luca Tiozzo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.